Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a più 0,03% sul Dow Jones, sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scosso nel Nasdaq 100, fermandosi a 7.723,02 punti. Poco sotto la parità il Nikkei 225, meno 0,43%. Con solide i livelli della vigilia l'indice cinese, meno 0,02%. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un meno 0,25%. Sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,48%. Tentenna Parigi, che c'è dello 0,22%. Il settore materie prime, con il suo meno 0,88%, si attesta come peggiore del mercato. Debole la giornata per Tenaris, che passa di mano con un calo dello 0,93%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della fiducia consumatori, che di S&P Case Schiller. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli ordini beni durevoli e delle scorte di petrolio. Grazie a tutti.